Per me la casa è un rifugio, è un luogo privato. Mentre domani, dopodomani, io non ho tempo, se ho tempo vi chiamo. Sì, ma di dove sei? Mi dispiace chiedertelo, non dipende da me, ma l'agenzia non ha affitto a stranieri. Cosa significa cercare casa nel territorio metropolitano di Torino, per persone provenienti da altri paesi e persone razzializzate? E' questa la domanda al quale Città Metropolitana di Torino cerca di rispondere, proponendo la nuova azione Non si affitta a persone straniere, presentata oggi nella sede istituzionale. Quando arrivavo io, mi vedevo allora, dicevano, la casa è stata già presa. E' come se il velo mi ricordasse ogni volta che non sono abbastanza italiana. Mi dice sì, c'è casa, e dopo quando vado io, mi dice ma non fanno le stranieri l'affittare. L'azione di sensibilizzazione è promossa dall'Associazione Almaterra, punto informativo della rete regionale contro le discriminazioni, con il sostegno del nodo metropolitano contro le discriminazioni della Città Metropolitana di Torino e dall'Associazione Arteria Onlus. Presentiamo oggi qui in Città Metropolitana una nuova azione del progetto di sensibilizzazione dal titolo Non si affitta alle persone straniere, un titolo provocatorio che vuole però analizzare un fenomeno che la città metropolitana vive, cioè quello del pregiudizio del razzismo nel mercato della casa. E con alcune associazioni e grazie all'azione perenne e capillare del nodo metropolitano, siamo oggi qui ad analizzare questo problema e a provare a proporre uno strumento nuovo di raccolta dati di episodi discriminatori per provare a dare risposte insieme in questa direzione. Allora, l'esperienza di Carmadonne è un'esperienza provinciale di una piccola città di 30.000 abitanti e abbiamo purtroppo dovuto constatare che la comunità è chiusa e diffidente verso questo tema, quindi l'accesso per le persone straniere alla casa. E come Carmadonne, un'associazione interculturale che lavora da tanti anni con le donne e con gli stranieri sul territorio, ci siamo attivate con i nostri partner, con la nostra rete e abbiamo cercato di risolvere un po' il problema per questi giovani ragazzi e donne straniere che stavano cercando una casa e quindi abbiamo dovuto constatare che l'unico modo per trovare casa è stato le conoscenze che abbiamo tramite la nostra rete e ci piacerebbe invece affrontarlo in un modo un po' più strutturale e con anche, come dicevamo prima, interventi di sensibilizzazione verso la popolazione e la comunità che sia un po' più accogliente. Associazione Almatera, all'interno di questo percorso, nato grazie alla collaborazione con il nodo antidiscriminazione della città di Torino e con l'associazione Arteria che è partner di diversi nostri progetti e iniziative, ha deciso di metter su, di creare un modulo di raccolta dati che possa monitorare qual è il problema del diritto di accesso alla casa per persone straniere e o razzializzate. È un progetto che si estende non solo al territorio della città di Torino ma anche alla sua cintura, al territorio metropolitano. Ci lavoreremo per un anno e speriamo di raccogliere in questo anno dei dati che possano darci degli indicatori rispetto al problema e alle situazioni che c'è sul nostro territorio. Come associazione Arteria partecipiamo a questa iniziativa promossa dalla città metropolitana e in collaborazione con l'associazione Almatera di raccolta dati sul tema delle discriminazioni nel tema dell'affitto. In particolare il nostro contributo sarà di coinvolgimento delle reti territoriali a cui partecipiamo. Crediamo l'importanza che questo questionario arrivi ai margini della città perché possa essere significativo e raccolto come opportunità da tante persone. Sapendo, altresì, che la discriminazione spesso è celata, è velata, non è così manifesta, non ci sono i cartelli, non si affitta alle persone straniere, ma i casi sono tanti e variegati. Allora, proprio questa diffusione territoriale permetterà una diversificazione del coinvolgimento delle persone, sia le vittime sia i testimoni, affinché questo possa essere un lavoro proficuo.